Grazie a tutti. 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 Italia. 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 Welcome. Welcome. Turkey. Turkey. Ukraine. Ukraine. Italy. It's a tutti. a tutti. It's a tutti. It's a tutti. I ragazzi. A warm welcome to everybody. A warm welcome to everybody. we want to keep you with a bit of rhythm. We want to keep you with a bit of rhythm and why not. We want to keep you with a bit of rhythm. Ragazzi. Grazie mille. Insieme a lei il Vice Sindaco. Insieme a lei il Vice Sindaco. Anche gli Assessori. Michele Piasio. Prego. Vi passo avanti. Assessori così. Vi possono conoscere anche gli atleti. Carlo Mazza. Lorena Rossati. Prego. Quindi Vice Sindaco. a lei l'onore di salutare queste bellissime nazioni. Questi atleti. Here to welcome you tonight we have Sondra Deputy Mayor Francesca Canobi. We want to thank her for the huge support together with the councillors here with her. Grazie a tutti. Un grande gioia la città di Sondra e dal benvenuto alle delegazioni di atleti, tecnici e dirigenti delle nazioni che partecipano al Senior World Rafting Championship. Grazie. 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 Grazie.